Questo mese ho lavorato più del solito e ho raccolto un po' di soldi in più Quindi ho deciso di farmi un piccolo regalo Mi sono comprato una bellissima ruspa Guarda che bella Da due ore che siamo qui Cicchi sta cercando le chiave che ieri ha buttato in mondilizia per sbaglio Efficiente, se mi davi una mano lo facciamo prima No, perché tu sei antipatico e mi chiami deficiente Sei un pezzo di merda